Di là o qua? Di là è difficile! Sporra su di qua! Dagli! Non è facile... Però devi bilanciarlo il corpo, è stato tutto indietro. Aspettate! Aspettate che dice la marcia... Aspettate... No no, tira la frizione. Aspetta eh! Aspettate... faccio il piede chi la porta in su? aspetta oggi è un po' acivolo oggi accenditi e non l'ho neanche gonfiata non l'ho troppo ghiacciato oggi è piovuto ieri